Ehi, guarda papà, Rex vuole del cioccolato, ecco a te, bello! No, figliuolo! Non lo sai che non si deve mai dare il cioccolato ai cani? Ma perché no? Perché li uccide! Alcuni ingredienti nel cioccolato non vanno bene con il loro apparato digerente. Li fa stare male! E poi iniziano a cagare tutto attorno ai muri e muoiono! Oh, beh, se davvero li uccide, allora perché lui sembra volerlo mangiare? Tutto tuo, Rex! No! Visto? Il cioccolato non gli ha fatto niente. Sta benone! Guarda cosa hai fatto! Guarda! Fine! Look what you've done! Look what you've done! On my throat, can I? It's aäù non molti scientists! But I see the ghost Wow! No?